Siete giorni di tratamento di pressuposto e sette giorni a lungo il nostro PDL per una cuenta. E la che è d'accordo, non ha mai avuto un menestro a tomar o di aver assina insegura di su messa, assina miedoso, assina cobardia sinceramente. Ora qui ne ha detto che vengiamo a un'altra riunione, come il signor Presidente del Parlamento di noi, vengiamo a tog, anto per ora vengendo una cuenta, dicono, ah, voi si è tenuta di una cuenta? Nostra a pidi durante il tratamento di pressuposto, tutti i giorni, e non so se posso fare una riunione, però turma inta sagradamente, per me che riunione conosce, ah, mi ti attualmente pidi un punto di ordo. Tura tardi, sagradamente, ora riunione, ti accade, mi ti volevo pidi un punto di ordo. Mi punti ordo, come chiaro, per me ne so di aver splicato in una nostra carta, per chi che la vai pidi sul ritiro. Mi non hai la contesta. Siete di allargare la cuore per me, ah, ho, e che per me pidi un'altra riunione per me, mi non ti chiede, che è venuta serio. Permettimmi, vai, per l'ultimo punto, come mi chiede a reaccionare, invece. E questo ha di aver con il ministro Dowers. Mi ha tommo noto in prensa, l'ultimo giorno, con il ministro Dowers, a comissare un attacco personal contro la mia persona. Mi sa con il ministro Dowers di una crisi, con la gente non consegliera, non è tutto caminato a conseglieri, e con la consegliera, o apparentemente, con la tira lodo arriva a Ivelino e a Ivercruz. Nostro paese ha un problema in una riunione, especialmente arriva a terreno di di sicurezza e criminalità, sumamente serio. E solucionano, non è difficile. Però mi ha un'altra visione, una visione clara di come si arriva a un luogo più sicuro. Mi ha un'altra determinazione per ottenere una decisione mesura per essere arriva a un luogo più sicuro. E mi ha un'altra coraggio per combattere la criminalità con una mano dura di verità. Se bo ti un'altra visione, se bo ti determinazione e bo ti coraggio, bo ti logra. Però il ministro Dowers, nel gabinetto Mike Eamann, non ti ningun. Non ti visione, non ti determinazione e coraggio, non ti nada di che. E il articolo non ha qui di minister Dowers che ti paga hop e placa in un'compagnia di mercadeo per sentire la lastra a mia persona, personalmente. E il contenito di articolo non ti confirma a me. Come minister Dowers non ti visione, minister Dowers non ti determinazione per combattere la criminalità e come minister Dowers non ti coraggio. Per sobra oro, e ti ti contesta a me, e non ti contesta a me. Ando, despues, se ti manda gente a corres kibicos e lastra a gente. Minister Dowers, se mi bo mandavo un mensaje. No perde bo energia na lastra a Evelyn Weaver Cruz. Bo no te crees, dici. Inca bo energia da empurba, da escapa algo. Di lo cual, con tu bo propria credibilidade, te hace a Roma un lugar más seguro.